Sono state sequestrate dalla tenenza di Vittoria alcune macchinette da gioco abusivamente installate all'interno di un bar di Comiso. Le macchinette, infatti, che apparentemente erano dei comuni videogiochi, grazie all'alterazione del software sarebbero state trasformate in vere e proprie slot machine. Tali apparecchi, ritenuti giochi d'azzardo, sono scollegati dalla rete dei monopoli di Stato e in tal modo sfuggono al monitoraggio dell'amministrazione finanziaria, non rispettando la normativa sul gioco. E' quindi il giocatore che ci rimette il più delle volte, poiché inserisce il proprio denaro in una vera e propria mangiasoldi, sperando in un'improbabile vincita. Le indagini delle fiamme gialle sono scattate in seguito a una segnalazione al 117. I finanzieri, dopo i primi appostamenti, hanno notato strani movimenti dentro i locali del bar e, insospettiti dal via vai di persone, sono intervenuti. Hanno così scoperto, anche se ben nascoste e lontane da sguardi indiscreti, la presenza di macchinette da gioco illegali. I videopoker sono stati quindi sottoposti a sequestro amministrativo e l'esercenza adesso è stato sanzionato per complessivi 8.000 euro.